Un grande impegno, una grande responsabilità per noi ragazzi scendere in pista della quale ci dobbiamo dimenticare poi mentre danziamo però vi assicuro che non è facile con tutto il lavoro che ci si mette, l'impegno e le aspettative di tutti Poi magari succede un contrattempo oppure un errore che non ti saresti mai aspettato e quello è un peccato, ore e ore di lavoro e di preparazione ma noi apprezziamo anche questo, diciamo sempre che sembra facile quello che vediamo ma non lo è affatto Xenia Makarofa per la Russia, flamenco per lei È partita molto decisa, sembra davvero determinata a fare bene Troppo seguito uno step out, questa era la combinazione È un problema adesso per lei Grazie a tutti 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 Grazie a tutti